Ho iniziato tutto grazie a mio padre che mi portava a vedere le parti dell'Olimpia e alla palestra che era appunto a fianco alla scuola elementare. La scuola educazione fisica la faccio molto volentieri anche perché penso di essere una tra le più preparate, la affronto col sorriso come tutte le altre materie. Con gli amici ci si diverte ancora, anzi ci si diverte di più soprattutto nello sport. Quest'anno quando ho iniziato col campionato della massima serie ho capito veramente ciò che voglio fare e ciò che voglio diventare, quindi sì, voglio portare avanti il basket come lavoro. Ragazzi mi raccomando inviate con l'hashtag sportezo video, foto e soprattutto fateci capire tutto quello che voi fate per raggiungere appunto questo vostro sogno. Mi raccomando fatelo!